Ciao a tutti ragazzi, sono un po' di questo nuovo video e nuovo video, diciamo nuovo video, ma anche nuovo video di aggiornamento e poi un altro tipo, nuovo tipo di video perché come vedete in alto a destra se mi sbaglio a destra, non mi ricordo c'è la webcam e vabbè, iniziamo questi Skywars e oggi sono in compagnia di di che celebrato di Davide vabbè vaffanculo, ma ciao a tutti signore telespettatori vabbè, io mi buco, buonasera sul canale 5 Italia 1 e tutto quanto mi raccomando, buona partita mettere c'è stop perché è più sei dentro? si, 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 ti so no, che mappa sei? praticamente questo qua è uno Skywars eh sì ok, allora, praticamente, ok, capito come funziona è tipo uno Skywars però è con il Lucky Block è vanilla però che io già sono una pipa innanzitutto togliamo l'anei che non ce ne fotte un cazzo dove è Davide? oh, ecco, è proprio a fianco a me c'è stronza c'è stronza arrivava di mezzo, di sicuro perché non ho una roccia e panigia questa cosa mi sembra, naga eh, se non parlo perché sono adattamente concentrato eh, mi metto rapidminer anche io raga, se non parlo un blocco di diamante e anche io non mi è capito da voler blocco di diamante sì, sì, Lucky Sword baffa il culo baffa il culo baffa il culo, Lucky Sword io fai subito dal nostro cavo amico Davide ci ha dato io ho l'acqua ah, mappa è la mia spada mappa 4 va bene perfetto ragazzi noi dobbiamo fare se morto mettiamo quando se morto posto vieni qua dai man tu aspetta che mi prendo piccone ci facciamo una bella spadozza di mantine io ce l'ho, mi dovessi far l'arma puro eh no ma mi serve a me però cazzo io vado in mezzo a vado c'è un po' di gente scegliamo lì se non voglio prima eh tam 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 comunque facciamo un bel blocco di diamante lo scompattiamo cosa ci serve ci serve solo le pepette e magari si devi fare il video magari scambiamo questo con il con la nostra cosa devi fare il video perchè sono morto eh vabbè tagli dai tanto so che muoio anch'io da raga c ci spacchiamo queste robette Andiamo da sta parte Adesso ci scommetti che muoio raga Ci scommettete che muoio Aspetta Comunque tolgo la Sono morto E' come un coglione tra l'altro E' morto? Si mi sono buttato Comunque ora tolgo la webcam Perché mi fa strappo Mergogna Cacca Va bene ragazzi Io taglio e ci vediamo dopo Quando Antonio è pronto Anzi Faccio Dai anto ci sei? Si ma cazzo la web Ok pronto Si è baggato a minecraft Ciao ragazzi Benvenuti in questo nuovo episodio Nuovo episodio Ma Ma se vi dico che Che è una nuova piccola Spergine con Antonio Bella a tutti ragazzi Sono Tone Santiglietro Di sesso in questo nuovo video Ehm Più che altro oggi E' un video speciale Perché siamo quasi ai 100 iscritti E perché poi C'è la web E poi mi sono mutato Come un coglione E ci sta con noi Già celebrato di caso Dai Ma che coglione che sei Dai ma fammi il favore Dai Sempre te Ma guarda che io ti do un sensore Ah non posso buttarlo Va fammi Vuotare c'è ste off Perché Ehm Sono nuovido E oggi Diciamo un video speciale Perché c'è la web E perché siamo quasi ai 100 iscritti E oggi vi porto Diciamo un uomini Che non provano Però hanno giunto Questa cazzola Diciamo Ehm Praticamente ci sono Skywars Con il No Come si diceva Lugiblock Eh sì Da cosa è gente Oggi sono con quel Decelebrato di Davide Ma che coglione Che sei Dai 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 eh Dai metterlo All'acqua Ragazzi Ehm Praticamente Sono morto Non ho registrato Prima Ma ragazzi Vi spiego una cosa Io non registro molto Perché Prima di una cosa È estate Quindi Non si si sta a registrare Ma noi andiamo a mare Anche se ora Ho iniziato a fare Di nuovo i video E poi Come sentite La cosa È un po' Sbredato Quindi È un po' difficile Fare il video Però Faccio del tutto Per farlo Lo sapete Sbredato La prima È una spada Fantastica Invece Adesso Tutto schifoso Ehm E a me Mi asce il nitro creeper Che va giù Ecco Bravo Il nitro creeper Vabbè Comunque Prendiamoci Un po' di legno Vedete Che c'è Un'animazione Diversa Io non Commento tanto perché C'è Mi concentro più che altro sul gioco Non vorrei perdere Perché io più che altro Porto un video per vincere Non per perdere Ma quanto sono più E se vedi me Dici cazzo Sei iperopinato Tutto chavo Con la spada Vediamo Lo sapete Anche io Non c'è nessuno Ma chi è quei monagli che sta sparando? Ma chi è quei monagli che sta sparando? Ma chi è quei monagli che sta sparando? Ma ora che ce l'ha morito Ma ora che ce l'ha morito Ma ho mancato io non ho colpito una volta, Dio, muori ho mancato colenda per me mi sono ribossi mi serve una pala via la idea è in crisi se è perfettamente perché? e ci vorremmo venire a dare un'amore adesso non ho un caverna 6 dai 6 7 comunque vado a 30 fissi ad fps faccio 30 fissi dai meno male non sono abituato però eh ne è morto ragazzi boh boh gug gg gg per antonio comunque la gente mi vuole morto la gente mi vuole morto però non voglio mai ne da che mi vogliono morto mh ah che bello questa testa non c'è no me ne è bello me ne è bello nemico arci nemico domenici va bene prendiamoci un po' di call 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 eh ma dove stai? mi sono nascosto eh in che isola e non avete tipo del legno in pine di legno non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è che siamo solamente ieri davvero eh fammi vincere dai se no meno due fila di legno dove è questa bella fila di legno? cazzi tuoi ahah eccola lì quella bella fila di legno fila di legno cuore di stagno cuore di legno si ma assoluto che sembra ok non c'è come c'è come c'è come c'è ma c'è come 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 c'è ma cosa me ne faccio? ma cosa mi serve in orne si va beh andò stavo parlando però dai ragazzi abbiamo vinto la partita si va bene non stavo parlando eh scusa credi dai ragazzi ci vediamo al progetto dai continuiamo dai taglio